Ognuno di noi, come Sant'Ommaso, è chiamato a contemplare nelle piaghe di Cristo la Divina Misericordia, che supera ogni umano limite e risplende sull'oscurità del male e del peccato. Così Papa Francesco a Regina Celi in Piazza San Pietro, nel quale ricorda il prossimo giubileo straordinario della Misericordia, un tempo intenso e prolungato per accogliere le immense ricchezze dell'amore misericordioso di Dio. Ripercorrendo il Vangelo di Giovanni, il Papa afferma che Tommaso è uno che non si accontenta e intende compiere una propria esperienza personale. Il Signore proclama a beati quelli che credono senza vedere, dice Francesco, e la prima di questi è Maria, sua madre. Però viene incontro anche all'esigenza del discepolo incredulo. Il toccare le piaghe del risorto sono per Tommaso un toccare, le proprie ferite, le proprie lacerazioni, la propria omigliazione. Ma è nel segno dei chiodi che trova la prova decisiva, che era amato, atteso, capito. Si trova di fronte un Messia pieno di dolcezza, di misericordia, di tenerezza. Nei saluti finali il Papa ha ringraziato chi gli ha inviato agli auguri pasquali e poi ha espresso il suo augurio ai fedeli delle Chiese d'Oriente che secondo il loro calendario celebrano oggi la Santa Pasqua.